L'accupoint è uno strumento che ci permette di ottenere un rilascio miofasciale. Possiamo lavorare zone specifiche del corpo come la pianta del piede, la zona del tendine d'Achille e ottenere anche una mobilizzazione specifica del tratto dorsale. Posizioniamo l'accupoint al centro del piede e spostiamo il piede avanti e dietro per circa 10 movimenti con movimento piuttosto dinamico. L'esercizio è bilaterale, quindi tratterò entrambi i piedi. Se voglio lavorare la zona del tendine d'Achille, Posiziono l'accupoint al centro del tendine d'Achille e provvedo ad effettuare dei movimenti di avanti e dietro massaggiando interamente la zona. Cambio piede. L'accupoint può essere utilizzato per ottenere una mobilizzazione del tratto dorsale. Vado a posizionare l'accupoint al centro del tratto dorsale ed effetto dei movimenti di avanti e dietro lungo tutto il tratto dorsale fino alla base del collo. Vado a posizionare l'accupoint al centro del piede.